Buon pomeriggio da Andrea Cartotto. Il tema del videocorso di oggi è quello delle immagini. Sappiamo realmente ricercare e scaricare le immagini senza violare il diritto d'autore? Questo è un tema molto delicato ed importante, tanto è vero che la prima via a cui fare riferimento non è la ricerca per Google Immagini. Infatti, se io effettuo la ricerca da motore di ricerca, Google, clicco su Immagini e poi immetto una o più parole chiave di cui voglio ottenere la relativa immagine, digito scuola e premo invio, ecco che ho delle immagini naturalmente a tema scolastico, però cliccando su una di esse, a destra possiamo osservare che Google, e lo dico benevolmente in questo caso, appone una dicitura che è scriminante, cioè le immagini potrebbero essere soggette a copyright. Lui avvisa, ma il vaglio resta a noi utenti. Questa è un'immagine che potenzialmente non può essere inserita a cuor leggero in una attività didattica. Minimo sindacale, se lo faccio, è quello di riportare la fonte, cioè devo riportare immagine tratta da il fatto quotidiano e di proprietà de il fatto quotidiano. Ancora meglio, cliccare sull'immagine, verificare magari in quale data essa è stata pubblicata all'interno di quale articolo. Però per evitare, diciamo, questa procedura un pochino sul filo di lana, è bene fare ricorso invece a dei siti che nascono con l'intenzione di mettere a disposizione immagini di alta qualità, insicurezza e immagini che non ledono il copyright. Ne vediamo quest'oggi ben tre. Partiamo da un noto riferimento, una nota risorsa a livello mondiale, Pixabay. Pixabay, lo vado a cliccare, il sito di riferimento, lo vediamo anche in alto, è pixabay.com. C'è una splendida e facile app anche per i dispositivi mobili da poter utilizzare. Qui siamo appunto da browser. Digito la medesima parola chiave di prima, scuola, premendo invio. Ed ecco che mi trovo davanti ad un archivio di immagini anche già potenzialmente filtrate, ma vi mostro che in realtà è possibile cliccare, dunque selezionare il quadratino safe search ed avere un filtraggio ancora più efficace di risultati cosiddetti espliciti. Ma, penso per esempio alle colleghe della scuola primaria, cercare una immagine su Pixabay è sicuramente meno rischioso che ricercarla su Google Immagini. Trascuriamo la prima riga che è una riga sponsorizzata. Leggiamo bene immagini commerciali, per cui nienta che vedere con Pixabay. È una inserzione. Passiamo dunque alla seconda riga e andiamo a scendere. Vado a cliccare sulla nostra bella immagine delle matite di legno ed ecco la nostra immagine che, come riportato nel descrittivo a destra, la Pixabay license è una immagine libera per usi commerciali con attribuzione non richiesta. L'esempio che faccio sempre ai colleghi anche nei miei corsi in presenza è questo. Posso prendere questa immagine, riportarla su una maglietta per un evento scolastico e, con un'offerta libera, fare sì che un genitore acquisti, come ricordo, questa maglietta per sostentare, ad esempio, un'iniziativa dell'istituto. In questo caso, dove in realtà non c'è neppure un lucro, ma è sostanzialmente una donazione liberale, però lo sto facendo non con una immagine di cui mi sono appropriato indebitamente, d'accordo? Inoltre, cliccando sul pulsante verde download gratuito, ho anche le risoluzioni diverse tra cui scegliere. Ricordo con l'occasione che, in base a ciò che noi scegliamo, esempio, 3840 pixel, quindi punti di colore in orizzontale per 2160 pixel in verticale, ecco, questa immagine non è necessariamente più bella. È una immagine che si presta meglio alla stampa anche su un grande formato. Nella realtà, per un uso didattico o per una pubblicazione sul sito dell'istituto, va più che bene una risoluzione anche minima come 640x360. Un clic sul tasto verde download. Non viene in molti casi neppure richiesto il famoso controllo antifrode, quel famoso quadratino io non sono un robot per intenderci da cliccare. Si sceglie dove si desidera salvare l'immagine, in questo caso io mantengo la mia cartellina dei download e poi vado a digitare il nome che preferisco. Matite e poi effettua un clic sul pulsante salva. A questo punto vi mostro anche che, consiglio e non è assolutamente obbligatorio, è talmente vasto e bello l'archivio di Pixabay che è possibile direttamente iscriversi gratuitamente, non arriva alcuna email indesiderata e a questo punto qualsiasi risoluzione si scelga non ci sarà mai diciamo un controllo o ad una procedura un pelino allungata. Dunque, prima risorsa pixabay.com. Seconda risorsa per avere sempre nella cassetta degli attrezzi del docente e non solo le alternative. Pexels. Sito di riferimento pexels.com. Medesima procedura, ricerca per parola chiave, io digito ancora scuola e vado a premere invio sulla tastiera. Scelgo una immagine desiderata. guardate per esempio un'immagine come questa per la scuola, basterebbe inserire un testo al centro e avremo una immagine che vale come cartellone digitale. Piccola differenza in positivo che abbiamo qui. Vado sulla tendina accanto a download gratuito e oltre alle differenti dimensioni posso anche scegliere di impostare una dimensione personalizzata e il sito stesso mi garantisce le proporzioni con il download gratuito o poi la mia immagine. Ok? Vedete che anche in questo caso, e per le competenze digitali è fondamentale leggere le informazioni presenti in un sito internet, ci viene specificato che è ad uso gratuito. Addirittura guardate un pochino sotto per dire la frequentazione di queste risorse che non nascono ora in tempo di pandemia ma sono storiche famose a livello internazionale. 15,8 milioni di visualizzazioni su questa immagine. Terza ed ultima risorsa, un sito che già dal nome ci dichiara l'intento di essere utile per la scuola. photosforclass.com, quindi photosforclass.com, consueta stringa dunque riga bianca di ricerca per parole chiave, clicco, digito scuola nuovamente, premo invio sulla tastiera, vedete che ci possono essere immagini diverse ma alcune immagini hanno anche una sorta di ricircolo. Ricircolo nel senso che questi siti archiviano anche immagini libere da licenza commerciale da copyright che sono presenti in rete, tant'è vero che trovo la stessa immagine con le matite. Io però ne prendo una diversa, clicco sul mio download, a questo punto vedete che mentre le precedenti immagini riportavano la dicitura in salva come jpeg, che è un formato compresso si dice, cioè che garantisce una buona qualità e un ragionevole peso, il formato png ci dà la stessa garanzia ma lo consiglio ad esempio se si deve stampare. Qui non decidiamo noi, vediamo come ci viene proposto il salvataggio. Assegno il nome alla mia immagine e quindi in questo caso vado a digitare matite 2 o matita o nel nostro caso anzi siccome c'è un po' di tutto, vedete che c'era uno smartphone, possiamo mettere strumenti scuola. Clicco su salva. La differenza di photos for class è semplicemente quella che ora vi mostro. Clicco un attimino qui in basso a sinistra, nelle immagini recentemente scaricate e salvate nel mio computer, ecco qui. Le immagini prelevate da photos for class prevedono una banda nera che abbiamo in fondo alla foto visibile che non è da togliere, che però attesta che io ho fatto un lavoro accurato di ricerca e selezione delle fonti e che quindi questa immagine è perfettamente normata. D'accordo? Quindi in realtà non lo vedo un lato negativo ma lo vedo se vogliamo un dettaglio che conferisce all'immagine una sua giusta dignità. Per cui Pixabay, Pexels e Photos for Class, fondamentale alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per la vita di ciascuno di noi, per ragionare e riflettere su un tema importantissimo e cioè su quello dell'attribuzione dei contenuti che stanno su internet e per essere realmente competenti dal punto di vista digitale, la vera sfida è proprio questa, saper scegliere le fonti per noi stessi come docenti e per proporle adeguatamente agli alunni. Ancora un saluto da Andrea Cartotto e da altri contenuti didattici similari a questo ed utili in questo momento e non solo, sempre sul mio canale youtube.com slash trainer Andrea. Buon pomeriggio! Grazie! 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 Grazie!